Una stagione di cambiamento, di rilancio della Fondazione Taormina Arte, una stagione in cui la Fondazione torna a produrre dei propri contenuti e non soltanto ad ospitarle, e dunque una piccola grande rivoluzione copernicana per questo angolo straordinario di Sicilia, per la perla del Mediterraneo che ancora oggi è viva con il suo charme nell'immaginario collettivo. Un nuovo inizio, un anno zero per Taormina. Sarà un anno in cui il nostro palcoscenico ospiterà alcuni dei più grandi nuovi internazionali della lirica, da Placido Domingo, Ida Garifullina, Vittorio Grigolo, Marcello Alveres, Marcello Puente, Massimo Cavalletti, Marco Ciapponi, Francesca Tiburzi, Annunziata Vestri e accanto a loro dei giovanissimi scelti assieme alla Fondazione Pavarotti, che da sempre si occupa di valorizzazione del giovane talento, quindi assieme a Nicoletta Mantovani, dei giovani scelti tramite audizione, che quindi avranno anche un'importante esperienza, anche formativa oltre che artistica. La Fondazione assolve anche questa funzione, assolve anche una funzione di scoperta e valorizzazione dei giovani talenti, italiani e non solo. Poi il nostro è un festival multidisciplinare, quindi La Grande Danza con Eleonora Bagnato e Jacopo Tizzi, ma anche La Prosa, un nuovo spettacolo di Leonardo Petrillo con Luca Lazzareschi e poi ancora una coproduzione con Arteven, con la regia di Giancarlo Marinelli e sul testo di Hemingway, di là dal fiume e tra gli alberi. E molto altro ancora, in verità. Alcune di queste cose ve le possiamo già svelare, molte altre ve le sveleremo nel corso delle prossime settimane. Un altro nome importante, Pinchas Zuckerman, uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, che sarà presente per due eventi, un concerto di musica da camera e un concerto sinfonico in doppia veste di direttore solista. E poi ancora un galà in stile Pavarotti and Friends, dedicato proprio a Big Luciano, che aprirà e inaugurerà il Termina Film Festival.